Fidelisandria nel 2015, Venezia nel 2016, Biceglie nel 2017 e Bitonto nel 2020. Se c'è una promozione in C da conquistare, chiamate Riccardo Lattanzio e state quasi certi che alla missione riuscirà. L'attaccante classe 1989 non è un amuleto ma una certezza del primo campionato dilettantistico nazionale, confermata anche in nero-verde sotto la guida di Roberto Taurino, con lo storico primo salto tra i professionisti diventato ufficiale a inizio mese. Secondo me il Girone H è uno dei tornei più difficili di tutta la Serie D, quindi con società e piazze blassonate come Foggia, Cerignola, Taranto, Casarano, Andrea anche, la stessa Andrea. E vincere questo campionato a Bitonto è stato veramente un campionato molto duro. Quattro reti in 24 presenze, altre tanti assist e un grande lavoro di raccordo tra i reparti. Nel 4-4-2 del Bitonto Lattanzio ha rappresentato la seconda punta ideale per esaltare le doti sotto porta di Chicco Patierno, trascinatore assoluto con 20 centri. Chicco ormai lo conoscono tutti, quindi è un bomber vive di gol. Allo stesso tempo io sono stato il suo compagno di squadra e anche di reparto e c'è subito stato feeling sin da subito. Quindi sono contento, al di là dei miei gol, sono contento per l'obiettivo che mi sono e ci siamo prefissati sin dall'inizio ed era quello di vincere il campionato. Se il nodo stadio Città degli Ulivi è stato sciolto con la sinergia annunciata tra amministrazione comunale e club, ora la priorità del Bitonto di Francesco Rossiello è nell'allestimento della rosa che verrà. Al nuovo DS Alessandro degli Esposti, in attesa di ufficialità e a mister Taurino, toccherà definire le conferme per la C, il nome di Lattanzio che ha tanto mercato in D alla pari di Turitto e tra i papabili il diretto interessato, non ha dubbi. Dobbiamo ancora parlare, quindi sappiamo tutti che hanno bisogno di tempo, anche perché la Serie C bisogna mettere, come si parla anche del campo stesso, quindi io lascio sempre la priorità alla squadra in cui ho giocato e soprattutto quando si vince sono a loro disposizione.